guardate che spettacolo rimane soltanto da lucidare la lama e affilarlo il resto rimane a lima che è il suo bello il legno di olivo è rimasto tutto speculare le venature sono speculari da un lato e dall'altro capolavoro così come le venature vedete qua prosegue grazie guardiamo anche un po' sotto adesso sembra lucidato sì sì una volta lucidato rimane così adesso è unto di olio ma dopo gli diamo una lucidata e rimane così specchio così manca solo da lucidare il filo della lama e dagli una verniciata e una affilata e basta passiamo a la cera con la luce d'attrice che c'ho io rimane così e sta pure bello in piedi da solo proviamo a tirare via il flash e vediamo come si vede bellissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti